Per una volta bastava semplicemente essere davanti alla cucina e lavorare, lavorare, lavorare. Il cuoco adesso deve informarsi, leggere, essere culturalmente attivo. La cucina è in gran parte passione, in quanto è una cosa detta e ridetta, però è vera, le ore non si devono contare e soprattutto non si devono contare gli esperimenti che si fanno e si rifanno. Una volta si adopera la farina, prendimi una cipolla, adesso invece deve essere la cipolla gialla, la cipolla arancione, la cipolla entropea, piuttosto che quella di Avezzano o altri tipi. Ma poi adesso proprio ci sono tantissime intolleranze e quindi il cuoco deve avere assolutamente una conoscenza approfondita. L'aiuto cuoco deve avere molta curiosità. La curiosità porta ovviamente a conoscenze sempre maggiori, sempre di tipo diverso. Quello che mi è piaciuto di questi ragazzi però è che hanno cominciato secondo me tutti come una prospettiva di lavoro diversa, perché magari erano in cassa integrazione, hanno perso il lavoro, per cui una prospettiva di lavoro. Ma si sono molto incuriositi e credo che lo prendano proprio come una cosa diciamo di cultura. Senza lo studio non si va avanti da nessuna parte e credo che loro siano abbastanza instradati in questa cosa. Per cui penso che faranno, alcuni di loro specialmente, faranno strada. Questo non è un corso di tantissime ore che possa aver dato soltanto una piccola infarinatura. Io spero di avergli soltanto aperto la mente al proseguio di questa avventura.